Sfogliatella La Sfogliatella nasce a metà settecento in un convento in Costilla Amalfitana a Conca dei Marini, nel convento di Santa Rosa, infatti il vecchio nome era Santa Rosa, se non chiedi però un po' della zia Badessa si chiamava Pasquale Pintauro, ah sì, e dammi la ricetta del convento, ah sì, la leggenda pure che solo in punto di morte la zia Badessa si convince a dare Pasquale Pintauro la ricetta, nel 1818 Pasquale Pintauro sveste le vesti di oster, era un'oste dei quartieri spagnoli e veste quelle di pasticciere, apre la sua bottega lì a Via Toledo, proprio alla confluenza di Via Santa Brigida, la folla sarà straordinaria, a lui attribuita l'invenzione della versione frolla, perché in realtà si rende conto che lui ne fa una versione da passeggio, semplifica la Santa Rosa, gli mette un nome commerciale, Sfogliatella, che poi anche nome vuole la sua parte la folla sarà straordinaria, nell'Ottocento inenarrabile a ogni ora del giorno, tant'è quello che nasce un modo di dire, anche oggi quando c'è un assembramento e soprattutto quando una ragazza è molto corteggiata magari, no, dice, ma poi i maligni aggiungevano, Pesfugliatella di Uta Città Avere Oconella! Avere Oconella!